31 marzo 2014, mancano pochi giorni all'inaugurazione del nuovo centro congressi dell'Eur, famoso come la nuvola di Fuxas. Ma il cartello mente e la verità è tutt'altra, i lavori sono ancora in alto mare e sulla data dell'inaugurazione c'è massima incertezza. Il progetto va avanti con una lentezza esasperante, pochi operai, stanno facendo lavori marginali ma il grosso fu fatto prima del mese di maggio. Da parte del Campidoglio lei ha avuto delle spiegazioni, ci sono stati degli incontri? No, io non conosco il sindaco, non ci siamo mai visti, non ci siamo mai sentiti, non ne so nulla. Ma lei è stato stato d'animo, arrabbiato? No, per niente, no, vero che tutti i giorni devo fare un progetto e devo lavorare e non posso perdere tempo arrabbiandomi per cose che so che sono inesorabili, perché sono nato a Roma, conosco questo paese, perciò sarebbe una battaglia contro il nulla. Secondo lei quando è che potrebbe essere inaugurato il centro congressi? Secondo me, viste le cose come sono attualmente, mai. Se ci hanno messo sette anni per fare la struttura e per farlo il rivestimento, eccetera, in proporzione, visto come sono le cose, mi sembra che pensare che il prossimo anno è finito ed è funzionale, dubbio. Poi bisogna pensare di attrezzarlo dal punto di vista tecnico, perché bisogna riprogettare, ripensare completamente l'apparecchiatura tecnica, perché in sette anni, in otto anni, in dieci anni, probabilmente è obsoleta. Il progetto nasce con un peccato originario. Il peccato originario è quando lanciò il concorso nel 1998 il bravissimo sindaco Rutelli, che sarà uno dei forse dei più bravi sindaci a Roma, si è dimenticato del finanziamento. Grazie. 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 Grazie.